Si dice salsiccia o salsiccia? Mi viene da ridere perché io quando sento dire salsiccia mi viene da ridere perché è sbagliato fondamentalmente si dice salsiccia il termine corretto in italiano anche secondo l'Accademia della Crusca è salsiccia però comunque nel vocabolario italiano trovate scritto sia salsiccia che salsiccia perché salsiccia rimane comunque una variante popolare molto utilizzata specialmente nei dialetti addirittura salsiccia in Toscana e nelle regioni del centro Italia molte persone cadono nell'errore perché reputano sia giusto salsiccia perché la vedono composta da sal sale e ciccia che significa carne in dialetto mentre in realtà non è così perché addirittura ho scoperto che salsiccia deriva da un termine del tardo latino che è salsiccia con una c ed è formato da salsus e insicia o insicia non lo so che significa polpetta salsiccia come dicevo prima è un termine che rimane più dialettale una variante popolare presente come vi dicevo nel vocabolario e l'Accadema della Crusca consiglia di utilizzare questo termine più che altro in contesti familiari e poco formali ovviamente se scrivete salsiccia in un testo scritto in un tema di scuola insomma penso che vi puniscano corporalmente a titolo informativo per gli stranieri soprattutto che mi seguono e che non sanno che cos'è e si perde una grandissima cosa la salsiccia non è nient'altro che un insaccato di carne praticamente è un misto di parti grasse e parti magre dell'animale e della carne che può essere pollo, suino eccetera che sono tritate e inserite in un involucro che sarebbe un budello naturale si può scegliere se mangiarlo o non mangiarlo più l'aggiunta di spezie e di sale quindi un tipo di carne un misto di parti di carne buonissimo se venite in Italia ma io so che si mangia anche fuori dovete assolutamente mangiare ad esempio salsicce e patate salsicce e fagioli è buonissimo quindi insomma questo video voleva solamente esortarvi a non dire salsiccia perché è veramente bruttissimo mi raccomando salsiccia un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video